Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolise. Partiamo con il campionato di Serie D. 33esimo turno nel girone F, Fano Chieti, Avezzano Trasevere, Mattese, Alba Longa, Porto d'Ascoli, Tolentino, Roma City, Pineto, Termoli, Notaresco, Vassese, Team Nuova, Florida, Vasto Girardi, Montegiorgio e Vigor Senigalli a San Benedetti. Ultima gara interna della regular season per il Vasto Girardi contro il Montegiorgio. Domani match point per chiudere definitivamente la questione salvezza diretta. La Serie D scende in campo per la penultima giornata di campionato. Per il Vasto Girardi sarà l'ultima gara al Ditella, ospite di turno il Montegiorgio. Due sconfitte in due uscite per Roberto Bacci, neotecnico del Montegiorgio. Primo K.O. a Fano, secondo scivolone, domenica scorsa con il Mattese al Tamburrini. Il passo falso contro i Campani ha complicato la corsa e play-out del Rosso Blu, anche se il tecnico si mostra fiducioso in vista delle ultime due gare di campionato. I miracoli esistono e si possono fare, dice. E noi dobbiamo avere lo spirito di lottare fino alla fine e credere che possiamo ancora fare qualcosa di importante senza però più sbagliare. Ora si fa sempre più difficile perché oggi saremmo retrocessi, però abbiamo a disposizione sei punti e noi fino alla fine non molliamo niente. Fondamentale sarà anche lo scontro diretto tra Termoli e Notaresco, entrambe a 30 punti e a sole due lunghezze dai marchigiani. In casa Vasto Girardi l'adrenalina è tanta, la gara di domani potrebbe consegnare la salvezza nelle mani dei gialloblu con una giornata di anticipo. Alla vigilia dell'ultimo incontro tra le Muramiche, anche il presidente degli Altomolisani, Andrea Di Lucente, ha voluto sottolineare il peso del match. Chiamato a raccolta il pubblico delle grandi occasioni, servirà tutto il sostegno dei tifosi locali per dare quella spinta in più alla squadra. Quello che chiediamo, aggiunge però il presidente, è massimo impegno ai ragazzi perché in questo momento devono dimostrare all'esterno come tutto quello che hanno ottenuto l'hanno fatto con un grande lavoro, iniziato a luglio, quindi parecchi mesi fa. Guantoni per Petriccione, difesa a quattro, composta da Canale, Panaro, Gargiulo e Capitano Ruggeri. Al centro del campo Grandis, Fiori e Danto Giovanni, Attacco, Calemme, Hernandez e Macni. Con fischio di inizio alle 15, sarà Andrea Terribile di Bassano del Grappa a dirigere l'incontro, assistenti Giuseppe Rizzi di Barletta e Antonio Alessandrino di Bari. Interessante la sfida tra Roma City e Pineto, sì perché la capolista non ha ancora chiuso il discorso in vetta alla classifica per la vittoria del campionato, facendosi avvicinare dalla Vigor Senigallia, passata da meno 7 a meno 4, che domani se la vedrà con la Samb. La buona notizia per il Pineto è che le giornate rimanenti sono soltanto due e permettono di gestire la situazione con una certa tranquillità. Al Cannarza sono in programma i 90 minuti tra Termoli e Notaresco, debutto sulla panchina adriatica per mister Martino. Settimana turbolenta, quella appena trascorsa in casa Termoli. La brutta sconfitta di Chiedi ha lasciato il segno a farne le spese mister Raffaele Esposito, che è stato sollevato dall'incarico. Per queste ultime due giornate, più i play-out, a guidare i giallorossi da lunedì c'è Alessio Martino, chiamato a salvare il salvabile. L'obiettivo di questi ultimi 180 minuti è fare più punti possibile e dare il massimo, come chiede il Presidente e come pretendono i tifosi giallorossi. Arrivare ai play-out nella migliore forma e cercare di giocarli in casa. Per la penultima giornata, il calendario mette in programma la sfida interna contro il San Nicolò Notaresco. Una sorta di play-out anticipato, ma non sarà semplice. Sarà partita vera, gli abruzzesi infatti viaggiano come i molisani e hanno gli stessi obiettivi. Nelle ultime quattro giornate hanno alternato vittoria e sconfitta. Sei punti conquistati che li colloca a quota 30 in classifica, ma viene dall'importante vittoria nel derby contro la Vastese per due reti a uno, firmata la doppietta di Defendi. Pericolo numero uno per la difesa basso molisana. Mister Bruno punterà tutto sul portiere Sciba, uno dei migliori del girone, e sul tridente romano Scimia e appunto Defendi. Di conto il neotecnico termolesi in settimana ha lavorato in primis sulla testa dei giocatori, dando loro la carica e gli stimoli giusti per queste ultime partite. Tornando al campo, la prima formazione di Martino non vedrà in campo Carnevale. Out per squalifica e antezza per infortunio rientra Bruno e Luazzini. L'undici non dovrebbe essere molto diverso da quello delle ultime settimane. Lombardo in porta, Sicignano, Cagliazza, Ciofi e Uzzol in difesa, centrocampo formato da Corcione, Scoppa e Bamba. Diop e Lorusso in appoggio e Luazzini. Dalla panchina Dragutinovic. Nel match d'andata giocato in terra abruzzese finì 0-0. Domani servirà tutto un altro termoli. Dodicesimo uomo in campo dovrà essere il tifo giallorosso, chiamato in massa a sostenere da vicino la squadra. In questo delicato momento spingerla verso una vittoria fondamentale. Alla Gino Cannasta con fisco nell'uso fissa da l'ora e quindici termolino talesco è stato affidato al signor Andrea Zoppi della sezione di Firenze, coadjuvato dagli assistenti di linea Filippo Pignatelli di Gliareggio e Luigi Ingenito di Piombino. Al Ferrante l'FC Matese attente la cinzia al balonga in palio punti per la griglia playoff. Ultima gara casalinga della stagione 22-23 per l'FC Matese. Lo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte sarà lo scenario dello scontro diretto con la cinzia al balonga sopra di due lunghezze rispetto ai verde oro. L'aggancio alla zona playoff è ancora possibile a 180 minuti dal termine della regular season e sarebbe per la società di Patron Rega una vera e propria ciliegina sulla torta. La vittoria esterna sul campo del Montegiorgio della scorsa settimana, gara terminata 1-0 per Ricciardi e compagni, ha reso ancora più concreto l'obiettivo già palesato da mister Urbano, giocare la post-season. Ricordiamo ancora la semifinale playoff di due anni fa, disputata in trasferta al Savini di Notaresco e vinta poi di misura dagli abruzzesi. La compagine di Piedimonte Matese da quando è approdata in quarta serie nazionale ci ha regalato non poche emozioni, concludendo il percorso stagionale sempre al di sopra delle aspettative. Ciò dimostra la compattezza e l'affiatamento dell'intero collettivo insieme all'esperta guida tecnica con il suo staff e la solidità della società. Anche quest'anno ci si proverà scavalcando prima la diretta avversaria, ospite sul rettangolo verde della cittadina casertana. La Cinzia Albalonga, quinta in classifica, quota 46 punti frutto di 12 vittorie, 12 pareggi ed 8 sconfitte, si presenta come una squadra ostica che però negli ultimi quattro turni ha subito una flessione in termini di risultati. Solo due i punti racimolati e tanto desiderio di riscattare l'ultimo passo falso, il KO per 1-0 subito tra le muramiche dall'Alma Juventus-Fano. Si prevede una gara vincente a partire dalle ore 15. Mister Urbano potrà contare sul numero 1 Palombo, schiererà dinanzi a lui Camorani, Sisca, Riccio e Setola. Al centro del campo Ricciardi, Ricamato e Carnevale, tridente d'attacco con Napoletano, Sorrentino ed uno tra Langellotti e Salatino. La terna che dirigerà il match tra FC Matese e Cinzia Albalonga sarà composta da Domenico Mallardi di Bari, coadiuvato da Riccardo Marra di Milano e Francesco Pirola di Abbiategrasso. Basket femminile di Serie B al via oggi la serie play-off che vedrà la molisana Magnole a Campobasso ospitare il Senigallia. Palla 2 alle 18, secondo match fissato giovedì con avvio alle 21 nelle Marche, eventuale gara 3 prevista per domenica 7 maggio, sempre alle 18 nel Molise. Calcio a 5 di Serie A2, oggi alle 16 il Cus Molise sarà ospite della Fenice Venezia Mestre per la gara d'andata dei play-off per la Serie A1 Elite. Oggi i riflettori sono puntati anche sul Pala Unimol che ospiterà la finale dei play-off del campionato regionale a contendersi la Serie B, lo Sporting Campobasso e il Torre Maggiore, squadre in campo alle 17. Noi ci collegheremo in diretta alle 17 con il Pala Unimol per trasmettere la telecronaca diretta di questa partita sul canale 18 di Telemolise. Adesso il calcio d'eccellenza. In eccellenza l'anticipo, sesto campano gambatese, il quadro si chiude domani con Ururi Castaldisangro, Boiano Limpianionese, Campobasso Campo di Pietra, Campovanino Pietramonte Corvino, Isernia Turris, Venafra, Oralto Asiertano versus Gioiese, Real Guionesi. La Turris è la squadra che deciderà la vetta di questo campionato. Domani la gara in casa della vicecapolista Isernia. Domenica prossima la sfida interna contro il Campobasso. Ultimi 180 minuti in eccellenza con il Campobasso che si appresta secondo buone previsioni a tornare in quarta serie. Sulla strada dei Rosso-Blu il Campo di Pietra che non ha fatto un punto e la Turris. Due avversari alla portata ampiamente del Campobasso primo dall'inizio del torneo. In Molise è atteso per i primi giorni di maggio il ritorno del patron americano Matt Rizzetta per pianificare le mosse in vista del futuro. Lo stesso Rizzetta ha usato le pagine social della società per testimoniare la volontà di essere la presidenza più longeva del Campobasso. Campobasso Campo di Pietra affidata alla direzione di gara del signor Di Carlo di Termoli. Si scambiano le avversarie i Rosso-Blu e Lisernia così ai Pentri domani. Tocca la Turris di Santa Croce di Maiano che proverà a chiudere in bellezza il campionato anche se i 47 punti testimoniano un torneo condotto in maniera più che dignitosa. Dirigerà la partita il signor Capoccia di Perugia. Aurora Alto Casertano probabilmente destinata a non partecipare ai playoff. Una competizione che non dovrebbe proprio disputarsi per il grande vantaggio che Lisernia ha accumulato proprio sulla terza in classifica. Domani Aurora Alto Casertano Venafro verrà arbitrata dal signor Mataresse di Termoli. Al Campomarino tocca il Pietra Monte Corvino ed il Campo di Pietra. Due avversari che potrebbero consentire sulla carta di fare due vittorie agli Adriatici che da neopromossi nel corso del torneo si sono difesi alla grande mettendo insieme per ora 46 punti. Gara affidata alla direzione del signor Pasqua di Termoli. Davvero interessante il discorso salvezza. Già retrocesso il gamba tesa. Dunque un play out non si disputerà. In questo momento l'Ururi ha interesse che non si crei lo sbarramento con la quart'ultima, la Gioiese. Oggi il distacco ammonta a 7 punti. Inoltre la quint'ultima, il Castel di Sangro, ha 28 punti ed ha invece interesse a che non si disputi il play out per salvarsi direttamente. Domani in programma match incrociati. La delicata sfida fra Ururi e Castel di Sangro che verrà diretta da Limonta di Lecco e Gioiese Guionesi che verrà arbitrata da Picciucco di Campobasso. A chiudere il quadro degli incontri della penultima giornata, Boiano, Olimpia, Agnonese affidata alla direzione del signor Lazzerini di Campobasso. Campionato di promozione. Solo un anticipo. Fortore, Altilia, Samnium. Domani, Varanello, Spinete. Boes, Varano, Poli, Spetacciato. Montenero, Juvenes. Cliternina, Eserne, Fraterna. Donches, Trivento. Rocca, Ravindola, Ripa, Limosani. Termoli, Atletico, San Pietro in Valle. Ancora da definire la seconda promossa che accederà direttamente al campionato d'eccellenza e le griglie, sia quella dei play-off che dei play-out post-season. Ancora 180 minuti di gara previsti in questo ultimo weekend di aprile in cui le 14 formazioni di Serie B regionale dovranno cogliere le ultime chance e decidere le sorti di una stagione che si è dimostrata decisamente al di sopra di ogni aspettativa. Ma procediamo per ordine, come sempre, partendo proprio dall'Atletico San Pietro in Valle, attualmente secondo in graduatoria. Iovine e i compagni sono riusciti a sconfiggere, anche se con più fatica del previsto, il calcio Montenero, per 2-1, mantenendo così 4 punti di vantaggio sul Ripa, Limosani e 5 sul Termoli, a meno due giornate dal termine, con la promozione diretta al prossimo campionato d'eccellenza che è molto vicina. Domani gli Altomolisani affronteranno la trasferta che li vedrà ospiti a Termoli. Gli uomini di Mister Ricci hanno conquistato tutta la posta in palio, nell'importantissima gara in casa della Esernia, per 3-1 con i gol di Letto, Impicciatore e Unato Gol, reti dunque che permettono ai giallorossi di rimanere in scia della seconda e terza classificata, nutrendo anch'esso speranze di promozione. Ma proprio in merito alla formazione Esernina, riduce da una brutta battuta d'arresto, domani la compagine Bianco Celeste mettere in campo tutte le buone intenzioni per affrontare la sfida in trasferta contro la Cliternina. I Bassomolisani, grazie al punto arrivato tramite il pareggio di 1-1 contro il Trivento, hanno totalizzato un pottino di ben 36 punti 28 giornate, trovandosi così attualmente in decima posizione. 90 minuti di gara questi ultimi che saranno diretti dal fischietto del signor Matarese della sezione di Termoli, mentre sarà il signor Di Mario di Campobasso a dirigere Termoli-Atletico-San Pietro in valle. Un inaspettato successo è arrivato invece per il Ripalimosani, che ha sconfitto per ben 3-1 la ormai affermata capolista Fortore, grazie alle reti di Guglielmi, Mancini e Tucci. Passo falso dunque per i campani già sicuri del primo posto e della promozione diretta al prossimo campionato d'eccellenza, che ha reso però possibile l'affermarsi dei gialloblu al terzo posto in classifica, nutrendo ancora speranze di acciuffare il secondo posto, che vale anch'esso la promozione diretta occupato attualmente dall'Atletico-San Pietro in valle. Domani gli uomini di Mister Bentivoico saranno ospiti del Roccaravindola. Gli altomolisani hanno ancora l'amaro in bocca a causa dell'ultima sconfitta di 4-0 contro la Juvenes. Una splendida vittoria quest'ultima, che invece è stata complice del sorpasso in gradatoria da parte di Arco e Compagni, proprio della Poiss Vairano. Domani gli uomini di Mister di Nero affronteranno la trasferta di Montenero, dove i basso-molisani cercheranno a tutti i costi di riscattarsi dopo l'ultima sconfitta di 2-1 contro l'Atletico-San Pietro in valle. Sarà il fischietto del signor Zurlino della sezione di Termoli a dirigere Montenero-Juvenes. Nella 28esima di campionato è tornato alla vittoria anche lo Spinete e lo ha fatto in grande stile in casa del fanalino di coda all'Altilia-Samnium, riuscendo così ad agganciare proprio l'eserne fraterna a quota 50 punti. I gialloverdi di Mister di Amente domani se la vedranno contro il paranello. La compagine di Mister di Chiro è nel pieno della sua forma e lo ha confermato l'ultima vittoria di 3-0 contro la Boiss Vairano. La seconda consecutiva. D'altro canto, la bella vittoria della formazione di casa li ha avvicinati ad una matematica salvezza, mentre la sconfitta per la compagine campana ha significato una retrocessione in ottava posizione. Ma domani per gli uomini di Mister Scalera sarà un'occasione d'oro, visto che potranno contare sul fattore campo nel match casalingo contro il Petacciato. I bastomolisani che sono reduci dalla sconfitta di 2-0 per mano della Donche Sagnone, granata che domani ospiteranno l'Ostico Trivento, che nello scorso match contro la Cliternina non è riuscito ad andare oltre il pareggio di 1-1. Della sezione di Termoli saranno i fischietti del signor Esposito e del signor Colella dirigere rispettivamente Baranello Spinete e Roccaravindola Ripalimosani, mentre della sezione di Sernia disegnati il signor Maselli per Boiss Vairano Poli Spietacciato ed il signor Rizzo, che dirigerà Don Chessagnone Trivento. Calcio giovanile lunedì alle 16.30 sul campo neutro Castaldi di Roccaravindola di Sernia e in programma la finale del campionato regionale Juniores tra l'Aurora Alto Casertano e il Boiano. La squadra vincitrice conquisterà il titolo di campione regionale e prenderà parte alla fase nazionale. Adesso il calcio di prima categoria. Prima categoria, girone A, 25esimo turno, la Fidelis Pozzilli, Carovilli Volturnia, Rocca Vivara, Morcone, Fornelli, Maronea, Carpinone, Cerce, Castello del Matese, Forum, Macchia Godenese, Adox, Pietra Melara, Riposa e Real Prata. Nel girone B, Adox, Toro, Sant'Angelo, Limosano, SS Campobasso, Biccari, difesa Grande Porticone, Frentania, Sciaminada, Angiolina, Colletorto, Torre Maggiore, Guardia Alfiera, Casali Dauni, Real Gildone, Castelmauro, Locomotive, Riccia e Macchia Valfortore, Calena. Oggi con il favore del campo, l'Ala Fidelis contro il Pozzilli. Sandro Matta, uno dei dirigenti dell'Ala Fidelis, sconfitta sul campo della Volturnia, una partita comunque giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L'avete ripresa malgrado il doppio svantaggio, avete provato anche a vincere, l'avete stato annullato il gol del probabile sorpasso e poi l'avete subito nel finale. I ragazzi dell'Ala Fidelis hanno dimostrato comunque di essere una buona squadra, anzi un'ottima squadra, che non meritano la classifica che hanno. A mio avviso il risultato è bugiardo per quello che si è visto in campo. C'è stata, secondo me, una gestione discutibile su qualche episodio che ha poi deciso il risultato finale. Complimenti comunque alla Volturnia, che comunque merita il fatto di aver combattuto fino alla fine, di averci creduto, però noi abbiamo tanto da ricriminare, sia per le occasioni create e sia per il gioco che abbiamo espresso in tutto l'arco della partita. Sì, anche sugli ultimi due gol subiti avete concesso degli spazi a campo largo? Sì, ci sono stati degli errori da parte nostra, però nell'occasione del terzo gol a mio avviso c'era un fallo evidentissimo sul nostro attaccante esterno. Ci siamo fermati, quello è stato l'errore, il difensore è stato preso alla sprovvista. Ok, però purtroppo il calcio è questo. Salvezza diretta, quasi vicina, anche se c'è ancora da lottare, ci sono diverse giornate? C'è da lottare, è un campionato abbastanza avvincente, è combattuto sia nella zona alta che nella zona bassa della classifica. Ci proveremo fino alla fine a dire la nostra e a fare comunque quello che ci siamo prefissati. C'è un campionato tranquillo per far crescere i giovani e organizzarci poi per la stagione prossima con altri obiettivi. Alla ricerca di punti per abbandonare la zona bassa della classifica, il Cerce domani sarà ospite del Carpinone. Michele è ritrovato, peccato per il Cerce, si è riusciti sconfitti a distanza, nella ripresa qualcosa è mancato nella sfida con il Fornelli. Sì, siamo calati un po' fisicamente, un po' anche mentalmente, ci è mancata la spinta, purtroppo quando hai questi problemi di organico eravamo agondati. Però nel primo tempo ci siamo difesi bene, poi abbiamo perso alla lunga le misure, ci siamo allungati, e con il tempo poi abbiamo perso sia a livello fisico che a livello mentale. Contro una buona squadra che comunque ha saputo tenere tutta la partita. Dando uno sguardo a quello del vostro cammino in generale, cosa ti è piaciuto di più e cosa no del Cerce fin ad ora? Fino ad ora mi è piaciuto il gruppo, siamo queste 10-11 persone che ce la stanno mettendo tutta, mettiamo da parte i nostri impegni, mettiamo da parte chi ha la famiglia, cerchiamo di arrivare ogni domenica a lottare, provare a dare tutto per la squadra. Quello che non mi è piaciuto è sicuramente che ci viene a mancare sempre qualcosa, abbiamo problemi di organico, abbiamo problemi fisici, ormai la stagione sta avvolgendo al termine, siamo contati, arriviamo sempre in 11, in 12, con pochi cambi, e quindi per adesso l'unica cosa salvabile è l'attaccamento alla maglia di questi pochi ragazzi che comunque hanno provato a dare tutto. Obiettivo salvezza, sicuramente probabilmente alla portata di questo gruppo. L'obiettivo è sicuramente alla portata, proveremo attraverso i play-out a lottare fino alla fine, a provare a dare il massimo fino alla fine e cercheremo di portare a casa questa salvezza e poi organizzare le idee magari per una prossima stagione. Resta impelagato nella zona calda della classifica il Fornelli che domani giocherà in casa contro la Maronea. Io ho lato per il Fornelli, successo importante, si è arrivata una vittoria pesante in chiave salvezza, ripartendo da questa prestazione salvezza alla portata. Assolutamente sì, gara molto complicata perché affrontavamo una squadra comunque che lotta come noi per la salvezza. La partita è stata giocata in trasferta, quindi su un campo che quando si gioca fuori è sempre più difficile. Abbiamo ottenuto il massimo risultato e siamo contenti così. Prestazione positiva da parte vostra, siete andati sotto ma avete reagito da grande squadra? Assolutamente sì, è lo spirito che ci portiamo avanti da qualche anno, quello di non mollare mai, infatti sull'1-0 ci abbiamo creduto e con qualche strascico però la partita è andata come doveva e questo è l'importante. Dal punto di vista personale, è soddisfatto del tuo rendimento in questa stagione? Poco, devo dire la verità, poco, però c'è sempre modo di migliorare, ci sono ancora altre partite e darò il massimo fino alla fine della stagione per ottenere l'obiettivo e anche a livello personale per avere qualche altra soddisfazione in più. Gara d'alta classifica oggi al Poce di Riccia con l'Audax Toro che ospita il Sant'Angelo Limosano. Romeo Fagnano, difensore del Sant'Angelo Limosano, è arrivata questa vittoria preziosa, meritata davanti al vostro pubblico. Solo nel finale un po' di sofferenza con il Castelmauro, l'importante era vincere per dare seguito al periodo positivo. Sì, sicuramente, abbiamo fatto la seconda vittoria consecutiva dopo l'ottima prestazione di domenica a Busso. Oggi era importante riconfermarsi, era importante comunque cercare di muovere la classifica aspettando tutti gli altri scontri diretti che ci sono e che ci saranno. Sette partite alla fine continueremo il nostro cammino dando sempre il massimo, cercando di puntare sempre alla vittoria e poi vedremo se riusciremo a centrare l'obiettivo dei play-off o meno. Il camminato è ancora a lungo, ci sono ancora tanti punti a disposizione, la matematica è ancora dalla vostra parte naturalmente. Come giudichi finora la stagione della squadra e anche la tua? Allora, personalmente, stagione dagli alti e bassi. Nel momento migliore ho avuto un infortunio, poi purtroppo in queste categorie è determinante anche il lavoro, quindi qualche assenza dovuta anche a quello. Però il piacere di allenarsi, di venire sempre al campo con la squadra, cioè c'è da parte mia, c'è da parte di tutti. Questo è un gruppo che è formato da oltre 20 persone. In prima categoria fare allenamento con 20 persone non è da tutti. Però abbiamo perso qualche punto per strada, abbiamo lasciato qualche punto per strada, quindi queste partite che verranno saranno determinanti per il nostro cammino, anche perché avremo comunque degli scontri diretti. Cioè domenica è stato uno sconto diretto, era importante riconfermarsi oggi, domenica sabato prossimo a Toro sarà un'altrettanta battaglia. Quindi voglio dire, ci prendiamo quello che viene con l'obiettivo della vittoria ogni domenica, questo sicuramente. Poi alla fine del cammino vedremo dove siamo arrivati, ecco. Il Castelmauro domani ospiterà la prima della classe Riccia. Al Cali Bilala, difensore del Castelmauro, è arrivata questa sconfitta qua a Sant'Angelo Limosano, però avete lottato fino alla fine. Avete avuto anche qualche occasione per riaprire la partita, però la palla non è voluta entrare. Sì, purtroppo la partita è stata un po' bellissima, abbiamo giocato bene, comunque abbiamo fatto la nostra parte e speriamo per la prossima volta ci diamo ancora di più la partita. La classifica non è bellissima, è stata ancora in zona play-out, però si è vista una scuola viva che è Lotto e che combatte e anche con i nuovi allenatori i risultati si sono visti. Sì, purtroppo Lotto ha fatto una bella cosa, comunque speriamo che ci dà una mano pure la prossima partita in casa. Noi vogliamo dare tutto per Castelmauro e facciamo fino alla fine comunque le cose. Speriamo per la prossima partita, ci crediamoci e vogliamo dare tutto per il nostro paese e andiamo avanti, forza Castelmauro. Pallavolo maschile di Serie B, oggi ultima trasferta della regular season per l'Energy Time Spike Campobasso, alle 15.30 primo servizio in casa del Sestu, la compagine di Mr. Maniscalco in terra sarda per mantenere il quarto posto. Bocce, sportivi e amici non sono voluti mancare alla due giorni, organizzata dalla bocciofila frosolonese per ricordare l'elio pallante. Ai nostri microfoni questa volta Ernesto Diorio che ha anche partecipato alla manifestazione. Ernesto Diorio, il nostro amico Ernesto Diorio, soprannominato il principe, ma soltanto perché? Perché sei il principe dei tartufi. No, la nostra famiglia ha il soprannome, come tutte le famiglie, ha il soprannome Principis e da questo abbiamo fatto il marchio principe e ci chiamiamo Tartufo Principe. Tartufo Principe? E quindi tu stesso poi hai ereditato questo? Sì, il nome di mio nonno, di mio padre. Il nome di tuo nonno? No, soprannome. Ma sei anche il principe dei tartufi? Ci difendiamo, no, ci difendiamo bene in tutta Italia. Senti, io mi ricordo fino a qualche anno fa, prima del Covid, che presso la tua azienda che è in agro, credo, di Sant'Elena Sannita organizzavi di fronte all'acqua Molisia organizzavi veramente anche delle feste estate, delle sagre con la degustazione dei tartufi serate bellissime. Ma non lo possiamo fare per una questione di spazio. Abbiamo fatto una piantagione di piante vigorizzate per la crescita, per il tartufo coltivato e quindi non c'è tutto quello spazio che c'era sette, otto anni fa. Purtroppo per una questione di spazio se si vuole far venire tanta presenza, tanta gente, c'è bisogno di spazio. Non abbiamo gli spazi giusti per poter fare una sagra importante. Va bene Ernesto, ma la gara di bocce tu giochi a bocce regolarmente perché io ti seguo, anche se da lontano, stasera hai perso in semifinale, avete perso in semifinale perché la gara era a Terne, però insomma per noi che siamo stati veramente amici di Elio Pallante è una presenza direi dovuta. È dovuta la presenza. Questo è un festival delle bocce che dura per ogni anno due giorni. Ringraziamo il presidente Mangione, la famiglia Pallante, ma abbiamo un presidente che forse è unico in tutta Italia perché per l'impegno che ci mette, per la voglia di fare le cose fatte bene, siamo contentissimi, abbiamo fatto la semifinale con una nostra squadra ecco di Frosolone, siamo contenti di quello che è accaduto, di come si sta svolgendo questa gara e domani proseguirà. Certamente, senti, è un movimento a parte questo Memorial Elio Pallante che però vi vede coinvolti per tutto il corso, quasi per tutto il corso dell'anno. Sì, è vero, è vero. Tutto l'anno ci tiene impegnati con le gare, con la Coppa Italia, abbiamo una bella squadretta, abbiamo dei buoni elementi, quindi ci difendiamo bene. Ancora un'altra cosa volevo chiederti perché abbiamo sentito prima anche l'assessore, ma le bocce sono sempre di più uno sport anche per giovani. Sì, è vero. È finita un po' quella tendenza? Sì, sì, noi ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, mezza età, insomma, cerchiamo di trasmettere ai ragazzi quello che piace a noi, quello che, diciamo, uno sport che crea movimento, crea benessere per il fisico. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani, penultima puntata stagionale di A Tutto Campo, alle ore 14.55, in studio Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio, collegamenti con tutti i campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio, domenica sport, fatti, commenti, interviste e immagini alla domenica sportiva. Vi ricordo anche i nostri highlights, i gol della domenica domani sera. partite dalle ore 22. Bene, è tutto. Buon fine settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.